Il tocco dell'ora e poi cominciamo. Ok, benvenuti a tutti, direi che possiamo cominciare. Benvenuti alla presentazione del rapporto di previsione Prometea di settembre 2023. Riflettevo che ci avviciniamo al cinquantesimo anno del rapporto di previsione. Ci avviciniamo con calma, vi diremo meglio quando ci arriveremo. Io sono Lorenzo Forni, segretario generale di Prometea Associazione. Vi presenterò un attimo la schedule per oggi. Comincio subito con una piccola introduzione. Noi è da vari trimestri che siamo nel campo del soft landing, quindi dell'atterraggio morbido. Molta evidenza è emersa negli ultimi mesi su questo scenario. Non è ovviamente privo di rischi. E quindi entrando, diciamo, chiudendo questo rapporto, la sensazione era di una certa tranquillità. Poi i mercati ultimamente si sono un po' innervositi perché hanno probabilmente acquisito anche loro questo scenario che comporta higher for longer interest rates e quindi c'è stata ultimamente sui mercati un repricing verso l'alto della curva dei tassi di interesse. A nostro avviso, e in questo senso bisogna leggere il nostro scenario, questa reazione potrebbe essere un po' eccessiva e nel corso dei prossimi mesi, quando i segnali di rallentamento effettivamente si concretizzeranno, probabilmente questo timore che la politica monetaria non sia effective, non sia efficace e che in qualche modo la crescita rimanga più alta del previsto richiedendo tassi di interesse alti a lungo, forse al momento i mercati hanno un po' overreagito. Noi abbiamo ancora uno scenario di soft landing, però è uno scenario in cui obiettivamente la crescita rallenta in maniera forte e i tassi non vanno oltre i livelli attuali, i tassi di policy e i tassi di lungo in qualche maniera si ristabilizzano sui livelli attuali o se non un filo più bassi. Ovviamente questo repricing del mercato si è riflesso anche sulla situazione italiana con l'annuncio del maggior deficit per l'anno prossimo in occasione dell'approvazione del Consiglio dei Ministri della Nadef, cioè della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza e addirittura il Financial Times ha titolato dicendo che questo maggior deficit dell'anno prossimo è stato causa ieri di spillover nel mercato dei titoli di Stato, addirittura i titoli inglesi sarebbero aumentati per questa ragione, crediamo che questo sia un po' eccessivo, però certamente è una situazione che nel contesto dei mercati attuali va valutata con attenzione e ho la fortuna di lasciare tutta la questione della finanza pubblica italiana a Stefania Tommasini che ne parlerà dopo. Il programma dopo questa piccola introduzione, devo già speed up, quindi il programma qual è? Come di consueto condivido la presentazione con Lorena Vincenzi che mi segue con lo scenario internazionale, poi Stefania Tommasini con lo scenario italiano e poi Marcello Messori che ringrazia di essere qui con noi, che guarderà in un certo senso un pochino più agli aspetti strutturali legati alle difficoltà del sistema produttivo europeo che sono evidenti. Comincio subito, come al solito da quando siamo in modalità ibrida o duale o come dir si voglia, cioè sia in presenza che in remoto, abbiamo l'occasione, la tecnologia ci offre l'occasione di avere i nostri polls e cominciamo subito sulla questione inflazione per tastare un attimo il polso, quantomeno della nostra community che ci vede in remoto e questi sono per vedere un po' cosa si pensa dell'inflazione, perché ovviamente il tema che io tratterò principalmente è quello della riduzione dell'inflazione, dei problemi con la riduzione dell'inflazione. Allora, la Fed nell'ultima riunione a metà settembre prevede la loro misura di inflazione 3-3% quest'anno, 2-5% l'anno prossimo e 2-2% nel 25%. La domanda è, diciamo, ah no, l'inflazione sarà più alta, scenderà più lentamente, mi aspetto più o meno un profilo analogo, no, l'economia rallenta, l'inflazione scenderà più in fretta. Avete un minuto e poi chiederò alla regia di darmi i risultati e me li dovrò ricordare perché non ho preso da scrivere, va bene. Quindi questo per quanto riguarda la Fed possiamo, credo, a questo punto chiudere il poll, dico che per chi è connesso risponde e poi deve dare invio per mandare la risposta, per chiudere la risposta, grazie mille, per chiudere la risposta, altrimenti non risulta tra, diciamo, non viene conteggiata. Chiedo alla regia di dare i risultati. Opzione A, 8%, opzione B, 23%, opzione C, 0%, nessuna risposta, 69%. C'è un, credo che questo sia un problema tecnico, spero che nella prossima domanda diciamo abbiano, vabbè andiamo avanti, dovete rispondere e poi spingere invio, altrimenti la risposta non viene conteggiata, comunque l'ipotesi prevalente al momento è, mi aspetto un profilo analogo. Stessa domanda sulla Banca Centrale Europea che ha avuto il Governing Council a metà settembre e ha indicato un'inflazione al 5-6% quest'anno, 3-2 l'anno prossimo e 2-1 nel 2025. Anche qui la domanda è, diciamo, quello che vi chiediamo è se secondo voi l'inflazione calerà in modo più lento, più o meno il profilo sarà analogo o invece l'economia europea va verso un rallentamento forte, probabilmente in questo caso chi pensa c'è più forte il previsto e quindi ci sarà un profilo dell'inflazione più basso. Ripeto, dovete inviare la vostra risposta e capiremo tra l'altro se questo non rispondo rimane, vuol dire che c'è obiettivamente una certa difficoltà, una certa incertezza quantomeno nel dar la risposta. Chiedo alla regia di darmi i risultati. Opzione A, 6%, opzione B, 31%, opzione C, 6%, nessuna risposta, 58%. Ottimo, rimane il profilo, mi aspetta un profilo analogo, l'ipotesi prevalente tra chi risponde ma c'è ancora una larga fetta di non risposte. Andiamo all'ultima domanda che è un pochino più complicata ed è la seguente. Assumendo che sia la FERSI e la BCE non alzino ulteriormente i tassi dai livelli attuali, vi aspettate che comincino a abbassare nel 2024, prima l'opzione A, prima la Fed e poi la Banca Centrale Europea, opzione B, prima la Banca Centrale Europea e dopo la Fed americana, più o meno nello stesso momento o no, non le abbassano nel 2024, le abbasseranno più tardi. Anche in questo caso bisogna rispondere e poi dare enter per inviare la risposta. Ovviamente anche qui c'è l'opzione non rispondo e quindi vedremo. Ora non voglio distrarre chi sta rispondendo. Abbiamo le risposte? Opzione A, 26%, opzione B, 5%, opzione C, 2%, opzione D, 19%, opzione, nessuna risposta, scusate, 47%. Ottimo. Allora, molto rapidamente, forse il dato da notare di più è la discesa delle non risposte, quindi vuol dire che pian pianino le persone hanno trovato un po' di confidence col sistema. Rimane il fatto che sì, tra le risposte lo scenario è diciamo quello più coerente con quello che attualmente si aspettano i mercati e cioè un abbassamento prima della Fed e poi dell'SB. Noi in particolare abbiamo la Fed che abbassa verso giugno 2024, l'SB verso settembre 2024 e abbiamo scenari analoghi anche noi sull'inflazione, li abbiamo un po' più bassi per l'area dell'euro, un po' più alti per gli Stati Uniti. Ma detto questo bisogna spiegare questo scenario, quindi partirò dicendo due parole se il soft landing si sta realizzando, poi dirò qualcosa su come questo scenario si sviluppa nella nostra previsione, rifletterò un attimo su questa questione se la politica monetaria è meno efficace che in passato e se questo fatto che no negli ultimi 12 mesi o un anno e mezzo nel caso degli Stati Uniti abbiamo visto aumentare i tassi del più del 5% negli Stati Uniti, più 4% in Europa, avendo visto un po' di trasmissione della politica monetaria ma non ancora molti effetti reali, a cosa questo si può attribuire e che implicazioni ha? E poi parlerò di un paio di aspetti di rischio sull'inflazione, in realtà ce ne sono un certo numero, anche Lorena e Stefano li toccheranno e quindi sono importanti da sottolineare. Allora il soft landing si sta realizzando, tenete conto che negli Stati Uniti l'aumento di tassi è cominciato all'inizio del 2022, nell'area dell'euro verso metà 2022 e vedete questi sono il GDP, il PIL, variazione sul trimestre precedente, vedete negli Stati Uniti che c'è un rallentamento molto moderato fino al secondo trimestre del 2023, in Europa il rallentamento è più forte, ovviamente ci sono di mezzo tante cose tra cui la crisi energetica e altre e comunque fino al secondo trimestre del 2023 siamo comunque ancora in territorio positivo col PIL. Come si differenzia questa resilienza, chiamiamola, tra gli Stati Uniti e l'Europa? Negli Stati Uniti sono i consumi che siano prima di beni, poi di servizi, adesso ancora di beni, comunque tengono, da notare che il peggio per il mercato immobiliare almeno diciamo è il tondino sotto qui sembra essere passato per quanto riguarda il ciclo immobiliare degli investimenti residenziali, ha avuto il calo maggiore l'autunno scorso ed è un po' rientrato anche se ancora in territorio negativo. Qui diciamo questi sono un po' le caratteristiche del rallentamento negli Stati Uniti, nell'area dell'euro sappiamo che sono soprattutto i consumi che faticano ovviamente a tenere dentro all'aumento dell'inflazione ma anche gli investimenti hanno rallentato da metà dello scorso anno per varie ragioni. Ora aggiungendo dati più congiunturali fino ad agosto i PMI e fino a settembre il clima difficile delle famiglie vedete che sia nell'industria manifatturiera il sentiment è in calo sotto il 50 sia nei servizi dopo diciamo la ripresa post covid sono anche lì in caduta. I crimini di fiducia sono bassi anche se ultimamente tendono a essere un po' meno correlati con l'andamento dei consumi. Come si sviluppa il soft landing nel nostro scenario? E qual è diciamo il meccanismo attraverso il quale è possibile raggiungere un rallentamento del PIL e allo stesso tempo una disinflazione senza avere la recessione? Ci sono ancora, chiariamolo, commentatori, fra tutti Larry Summers che sostiene che sia improbabile disinflazionare e arrivare al 2 senza un serio aumento del tasso di disoccupazione e quindi senza una recessione. Quindi diciamo nonostante ci sia uno spostamento nel camp del soft landing c'è ancora qualcuno che dice che questo è difficile. Ovviamente queste analisi si basano spesso sull'esperienza passata e quindi la domanda è quanto è rilevante l'esperienza della disinflazione degli anni 80 sostanzialmente negli Stati Uniti per quello che è il contesto attuale americano e europeo. Come si sviluppa il soft landing nel nostro scenario? Io qui a costo di prendermi qualche rimbrotto ho deciso di introdurre una cosa molto semplice. Allora è un po' scolastica ma mi ha aiutato un po' a interpretare il scenario. Questo è un classico figura di domanda e offerta, vedete la D è la domanda, la domanda aumenta al calare dei prezzi, la supply aumenta all'aumentare dei prezzi. Lo shock come si è sviluppato? C'è stato uno shock dal lato dell'offerta, sappiamo tutti sia l'aumento dei costi energetici che i problemi con le catene distributive eccetera che sostanzialmente ha fatto sì che un'uguale produzione si accompagnasse a prezzi più alti ma soprattutto negli Stati Uniti meno discutibili anche sulla parte europea. C'è stato anche uno shock dal lato della domanda e vedete che il risultato è, a secondo dove vi mettete in questo grafico per semplicità ho fatto vedere che stai più o meno al potenziale ma con prezzi più elevati. Ora come si rientra a questi shock? Ci sono due modi. Uno diciamo è quello più americano in cui sta rientrando soprattutto lo shock dal lato dell'offerta, ci sono meno problemi sul mercato del lavoro, sulle catene di approvvigionamento, sul costo dell'energia e quindi sostanzialmente prima rientra la supply però la Fed ha bisogno anche un po' di contenere la domanda. Però diciamo questo è un soft landing che passa con una crescita un po' più alta o forse anche superiore al potenziale ma comunque un po' più alta. Invece la situazione europea per come la interpreto io è diversa, è che hai ancora la supply soprattutto sui costi, l'energia, gli alimentari che fa fatica a scendere e la Banca Centrale Europea ha bisogno di ottenere questo rallentamento soprattutto dal lato della domanda. Questo è un modo semplice per interpretare quello che è il nostro scenario, cioè in cui sostanzialmente qui vedete le nostre previsioni per la domanda interna e per il PIL, in cui sostanzialmente c'è un rallentamento mai più forte nell'area dell'euro, l'area dell'euro sta sotto il potenziale sostanzialmente tutto l'anno prossimo in parte del 2025 però poi dopo c'è una ripresa che sostanzialmente si accompagna al calo dell'inflazione e quindi alla ripresa del potere d'acquisto delle famiglie. Negli Stati Uniti invece l'aggiustamento è compatibile con una crescita un po' più elevata, comunque un forte calo l'anno prossimo e poi una ripresa nel 2025. Come a dire, è un soft landing diverso, è un soft landing diverso perché gli Stati Uniti potrebbero farlo con un tasso di crescita, anzi nel nostro scenario lo fanno con un tasso di crescita più elevato. Vedete però tutto è condizionato a questo calo dell'inflazione che come dicevo non è particolarmente diverso da quello che hanno le banche centrali, d'altra parte il punto non è essere outliers ma essere potenzialmente più corretti di altri e qui vedete che lo scenario è uno scenario in cui l'inflazione si riduce con calma, quindi le banche centrali si danno tempo per arrivare all'obiettivo di inflazione del 2% perché questo viene raggiunto nel 2025 quindi non è un tentativo di disinflazionare rapido, cioè si danno tempo perché questi aggiustamenti abbiano luogo, però ovviamente è condizione per la ripresa nel 2025 raggiungere un tasso di inflazione relativamente basso. Ok, ma nella politica monetaria come dicevamo noi nel nostro scenario i tassi hanno raggiunto il massimo con gli aumenti delle CB di settembre con la pausa della Fed, nonostante la Fed indichi un possibile ulteriore aumento entro la fine dell'anno di 25 punti basi, ma ovviamente qui è quando dicevo all'inizio questo scenario sembrava abbastanza tranquillo e poi dopo diciamo negli ultimi giorni le cose sono un po' mosse così sui mercati eccetera, perché in verità c'è una grande incertezza su cosa stia succedendo, cioè dopo questo forte aumento dei tassi che esattamente cosa ci dobbiamo aspettare? Ok, la crescita probabilmente sarà più alta, ma perché? Perché la politica monetaria è meno efficace, perché c'è più resilience, perché ovviamente le cose vanno insieme. Vi dirò più o meno quella che è la nostra interpretazione e quali sono le implicazioni. Ora è evidente che la politica monetaria è meno efficace che in passato, ma per una ragione abbastanza banale, cioè che mentre la trasmissione dei tassi è stata veloce, come ha detto anche la Lagarde, cioè la trasmissione dei tassi di interesse, se vedete dall'estate soprattutto per l'area dell'euro, dall'estate 2022, come si può dire, tutti i tassi sui presti alle imprese, credito al consumo, mutui, tra l'altro stiamo vedendo cali sui presti alle imprese notevoli, soprattutto in Italia, ma anche in Europa, un forte rallentamento eccetera. Quindi diciamo c'è un impatto di trasmissione della politica monetaria, nessuno discute che sui tassi questo non abbia effetto. negli Stati Uniti è un pochino più difficile perché, però lo vedete anche i mutui e i presti personali, i tassi di interesse sono diciamo aumentati ma non tantissimo, ma quello che veramente bisogna andare a guardare è il peso del servizio del debito sul reddito disponibile o sul reddito di impresa. A sinistra avete le famiglie, a destra avete le imprese e vedete che almeno fino al primo trimestre 2023, quando i dati sono disponibili, ovviamente ci si deve aspettare un po' di aumento nel secondo trimestre e poi vedremo nel terzo, però vedete che il servizio del debito alle famiglie in percentuale del reddito disponibile è sostanzialmente in calo, è un calo che in realtà ci portiamo dietro da molto tempo, cioè dalla crisi finanziaria del 2008-2009 ed è connesso al fatto che c'è stata una riduzione dell'indebitamento, cioè sostanzialmente che i bilanci di famiglie e imprese sono più solidi, cioè sono meno indebitate anche sulle imprese, vedete che il servizio del debito delle imprese non finanziare in percentuale del reddito di impresa è sostanzialmente con poche oscillazioni abbastanza stabili, cioè qual è l'idea? Che in una situazione in cui le famiglie sono meno indebitate, le imprese sono meno indebitate e poi uno potrebbe discutere su quanto questo debito è a tasso fisso, negli Stati Uniti è molto a tasso fisso, quanto lo è in altri in Europa un po' meno, eccetera, però sostanzialmente l'impatto della politica monetaria è meno rilevante perché il costo del debito sul reddito è più basso o aumenta di meno. Tra l'altro pensate che questo è lo stesso ragionamento che uno può fare se si chiede ma perché questo forte aumento dei tassi di interesse non ha avuto quelle crisi di emerging markets ai quali verranno abituati, addirittura nel 2013 col famoso taper tantrum bastò la preoccupazione che i tassi di interesse americani salissero per mandare in difficoltà alcuni paesi. La spiegazione che si vede anche in letteratura è sostanzialmente che sono le due, che i paesi sono meno indebitati in valuta estera e che le banche centrali sono più credibili. Quindi in un certo senso c'è un aspetto di, come si può dire, di bilancio di minore indebitamento, eccetera. Allora, se noi accettiamo questa tesi che, visto che i bilanci di famiglie e imprese sono più robusti, la trasmissione della politica monetaria è più lenta, bisogna capire qual è l'implicazione che ne traiamo. Scusate, vi faccio vedere un'ultima figura per farvi vedere che le possibilità finanziarie delle famiglie negli Stati Uniti sono calate molto, un po' meno in Europa, ma sostanzialmente sono state in cala dalla crisi del 2008. Sui prestiti bancari è un po' più complicato, nel senso che negli Stati Uniti ovviamente i prestiti bancari contano poco e bisognerebbe guardare più agli spread corporate, sulle obbligazioni corporate, anche quelli non sono saliti molto, sono saliti un po' ultimamente, ma non molto. Prestiti bancari nell'area dell'euro, scusate, è quella, la linea blu, vedete che in fondo tutto sommato c'è una stabilità se non un leggero calo e questo a corroborare quest'idea che i bilanci di imprese e famiglie sono più robusti. Ma il problema è se veramente la politica monetaria ha un impatto di trasmissione meno forte che in passato, diciamo, che implicazioni ha per l'andamento delle politiche monetarie e per il nostro scenario? È evidente che il higher for longer inizia a essere più comprensibile, cioè l'idea che il meccanismo di trasmissione non è che non c'è, i tassi stanno salendo, eccetera, è che avrà, diciamo, bisogno di più tempo per manifestarsi. Siamo abituati a lags lunghi sull'impatto della politica monetaria, lo sapevamo già prima, può darsi che in questo caso i lags siano ancora più lunghi e quindi non vuol dire che come forse nei mercati alcuni pensano che ci sarà bisogno di ulteriori aumenti e ovviamente ci sono dei rischi, che è il punto 4, rischi sull'inflazione, quindi non bisogna neanche escluderli. Però vuol dire che le banche centrali vogliono vedere pian pianino l'impatto, diciamo, hanno capito che la trasmissione è lenta e vogliono, come si può dire, aspettare di vedere che pian pianino questa trasmissione inizia a avere effetto, anche se più lentamente. Rischi sull'inflazione ovviamente ce ne sono tanti, il nostro è uno scenario relativamente benigno, diciamo, e sappiamo che ci sono una serie di rischi, alcuni, anzi Lorena ve ne parlerà di alcuni, penso che sarà una buona parte della sua presentazione e anche Stefania per quanto riguarda l'Italia ne abbiamo un certo numero, tra cui le tariffe della Rera che sono sempre imprevedibili. E rischi sull'inflazione, allora io il dibattito ultimamente era un po' su questa questione dell'aspetto distributivo dell'inflazione, quest'idea, prima di farvi vedere la figura che mi distrae, il problema era l'aspetto distributivo dell'inflazione, ma quest'idea che c'è stata, che i profitti delle imprese in Europa in qualche modo hanno tenuto, che le imprese sono riuscite a scaricare a valle costi, in tutte le scomposizioni dell'inflazione, ne abbiamo anche una nel rapporto, guardatela, è una componente rilevante dell'aumento dei prezzi, i salari unitari eccetera invece non hanno tenuto il passo e sono calati in termini reali e quindi una delle preoccupazioni da tempo è quella di dire ma se i salari recuperano un po' di potere d'acquisto questo quantomeno rallenterà il calo dell'inflazione. Devo dire che di solito in generale si è l'evidenza che la teoria economica suggerisce che i salari seguono l'inflazione, non è che sono di solito la causa scatenante, almeno nell'esperienza direi post guerra, di solito cercano di recuperare un'inflazione che si è già realizzata e il problema è quanto riescono a recuperarla, se ne recuperano poca la disinflazione è più rapida, se ne recuperano di più la disinflazione sarà più lenta. Però effettivamente allora insomma ho ritenuto interessante andare a vedere le quote del valore aggiunto, quindi diciamo della produzione annua che va al lavoro e ai profitti e questo è per gli Stati Uniti. Nel caso degli Stati Uniti vedete la cosiddetta Biden economics, la Biden economics è in qualche maniera i salari sono riusciti, perché tenete conto che la quota del lavoro è salario e occupazione, è l'insieme, quindi il fatto che l'occupazione sia andata bene e in fondo i salari in termini reali abbiano ottenuto ha permesso alla quota del lavoro di aumentare, tenete conto che sono pochi punti, guardate la scala verticale, stiamo parlando del passaggio da 52,5 a 54, parliamo di poche variazioni, però questo vi dà un'idea. Invece se ci spostiamo all'area dell'euro, tenete conto che c'è un terzo fattore qui che è l'ammortamento, se veniamo all'area dell'euro abbiamo che invece i profitti sono comunque, la quota dei profitti sul valore aggiunto è andata crescendo negli ultimi trimestri, la quota del lavoro è rimasta costante o il leggero calo e anche qui la costanza è solo dovuta al fatto che l'occupazione è andata bene ma con salari reali o unitari in calo. E allora è chiaro che uno diciamo nell'area dell'euro verrebbe la preoccupazione di dire ma se i salari recuperassero il loro potere d'acquisto che impatto avrebbe questo sull'inflazione? Allora questo non è e quindi c'è stata molta attenzione su questo aspetto. In realtà ripeto se uno guarda i dati più recenti anche del secondo trimestre il costo del lavoro è addirittura un po' calato nell'area dell'euro rispetto al primo trimestre, siamo su 4,5 nella media dell'area e noi non vediamo un rischio diciamo di una spirale salariale, salario-inflazione anche se obiettivamente ci sarà un po' di recupero e questo rallenterà il calo dell'inflazione in Europa che comunque tipicamente è un'inflazione più sticky diciamo perché si sa che nell'area dell'euro rispetto agli Stati Uniti le imprese aggiustano i prezzi meno rapidamente e quindi è naturale che li aggiustino meno rapidamente anche in calo. Io ho un'ultima slide e questo forse vi aiuta a mettere nel contesto quello che ho detto e cioè a sinistra Stati Uniti a destra area dell'euro, salario-orario in verde unitario diciamo, inflazione al consumo in blu, vedete che negli Stati Uniti già i salari reali sono positivi, crescono un tasso positivo, nell'area dell'euro siamo ancora in negativo almeno fino al secondo trimestre e vedete che comunque la crescita, questo non è il costo del lavoro ma sono le retribuzioni, è intorno al 4% e non ci sono segnali di forti, diciamo di un aumento di questo tasso di crescita recentemente. Ovviamente situazioni da monitorare, ci sono alcuni scioperi negli Stati Uniti paradossalmente, non riteniamo che ci siano le condizioni in Europa perché la domanda è più debole, questi scioperi che ci sono stati negli Stati Uniti sono in situazioni dove la domanda è abbastanza forte, cioè l'auto industry, la Hollywood eccetera, sono situazioni diciamo un po' diverse. Avrei quindi sostanzialmente ci sono rischi sull'inflazione, io qui ne riporto soltanto uno, ovviamente c'è la questione del petrolio di cui vi parlerà Lorena, degli alimentari, ci sono altri rischi. Io ho un'ultima slide, in verità sono un po' indeciso se farvela vedere o no, ma a questo punto ho deciso di farvela vedere perché questa è una cosa un po' teorica, scusatemi, ed è questa considerazione molto semplice che l'incertezza, e questo lo vedete nel grafico di destra, l'incertezza sull'inflazione futura, si è ridotta. Lo vedete, questa è la Survey of Professional Forecasters dell'ECB a destra, e vedete sostanzialmente che è trimestrale, avete il primo trimestre 2023 in verde, il secondo in arancione e il terzo in blu, vedete sostanzialmente che sono calate le code negli ultimi trimestri ed è aumentata, diciamo, questa è l'inflazione 2024, scusate, ed è aumentata l'idea che, cioè è aumentata la probabilità di quelli che ritengono che siano in range centrale, cioè si è ridotta la dispersione, possono sembrare variazioni piccole e concordo, però l'idea qual è? Che nel momento in cui c'è meno incertezza su come muoverà l'inflazione, chi fa i prezzi ha meno bisogno di avere un atteggiamento, diciamo, risk averse, del tipo, io oggi aggiusto i prezzi, li terrò fermo tutto l'anno prossimo, eccetera, non so se l'inflazione l'anno prossimo mi va molto in alto, perché c'è una forte dispersione sulle attese, quindi li metto molto alti, così mi coprono anche da scenari di aumenti dei prezzi più estremi. Nel momento in cui questi scenari estremi diminuiscono la probabilità, io sicuramente posso aumentare i prezzi in maniera meno estrema, probabilmente questo ha un impatto relativamente marginale, però l'ho trovata una cosa interessante che si inizia a vedere anche in letteratura e che magari chissà un domani non ci dica che aiuta a spiegare magari un pochino di riduzione, da un piccolo contributo alla riduzione dell'inflazione che sappiamo è di altro tipo, è più che altro legata ai prezzi dell'energia e degli elementari. Io qui passo la parola a Lorena, vi ringrazio e basta direi, ci risentiamo dopo. Se devo dire due parole conclusive per fare un po' di sintesi, ho cercato un po' di spiegarvi questo soft landing, di spiegarvi come credo stia diventando più probabile, questo abbia avuto anche dei risvolti sui mercati, però come ci siano tanti rischi e qui era per questo volevo passare la parola a Lorena, grazie. Grazie, buongiorno a tutti, quindi come già ripetuto più volte devo partire per forza dai rischi, lo scenario l'abbiamo sentito, continuiamo a essere convinti che una probabilità elevata sia quella di un soft landing che è un rientro molto graduale dell'inflazione, ma ovviamente i rischi sono tanti a partire da queste quotazioni del prezzo del petrolio che abbiamo visto persistere sopra i 90 dollari e barili ormai da almeno 15 giorni. Ora, perché è un rischio? Noi nel nostro scenario è implicito che nel momento in cui vedremo una decelerazione della domanda si ritorni sui valori pre-annuncio OPEC Plus di settembre, cioè tra gli 80 e gli 85 dollari a barile, però non possiamo nasconderci che i rischi per una permanenza su livelli più alti o anche la possibilità di vederli ulteriormente in aumento non sono pochi e si legano essenzialmente a delle osservazioni che abbiamo visto nel recente passato. Per esempio l'elasticità apparente dell'offerta di petrolio che può venire dagli Stati Uniti a variazioni, a riferimento allo shale oil, a variazioni significative del prezzo che in un qualche modo andavano a mitigare le spinte a rialzo dei prezzi, abbiamo visto che nel tempo sono andate riducendosi. Se io vado a calcolare la media apparente nel periodo pre-pandemia, questo era 1,5, nel periodo dalla pandemia in poi 0,5, se mi fermo ad agosto del 22 e arrivo fino ad oggi, perché agosto 22? Perché è stato firmato da Biden l'Inflation Reduction Act che prevede un supporto fiscale per la produzione di energie da fonti rinnovabili, questa elasticità è ancora più bassa, quindi eventuali tensioni sui prezzi, il loro riaggiustamento o riduzione vengono lasciate in una misura più consistente dal lato della domanda piuttosto che a un aumento dell'offerta. Se poi ci concentriamo in Europa sappiamo che quest'anno tutti i paesi, la maggior parte dei paesi hanno introdotto delle misure per contrastare il caro energia per famiglie imprese con effetti anche sulla parte di energia nell'indice dei prezzi al consumo, sono misure che attualmente potrebbero scadere entro la fine di quest'anno in discussione per il rinnovo completo parziale al prossimo, ma capite che se effettivamente vengono lasciate cadere, scusate, se scadono effettivamente quest'anno, il prossimo anno in questa componente dei prezzi di energia per qualche paese europeo potremmo vedere degli effetti base positivi. Rischi che non si limitano solo alla componente dell'energia ma anche ai prodotti alimentari. È vero che la situazione del conflitto russi-ucrana in un qualche modo sembra avere trovato un equilibrio per quanto riguarda lo spostamento dei beni accantonati in Ucraina, però il rischio di nuove tensioni rimane elevati e poi si comincia a parlare della possibilità che il prossimo anno si realizzi un nuovo episodio che conosciamo tutti legato alla temperatura che potrebbe aumentare soprattutto nella zona del Pacifico che prende il nome del nino. Allora, il nino secondo queste agenzie che tengono conto di questi fenomeni di tipo meteorologico, l'ultimo episodio che viene codificato come grave si è realizzato tra il 2015 e il 2016. Se guardiamo all'indice aggregato dell'economist in dollari non sembra, no, non sempre in questi due anni aver subito grosse variazioni, probabilmente anche se guardiamo al prezzo del grano, molto più forte l'effetto, evidentemente non sappiamo se dietro a questo spike, io personalmente non so se dietro a questo spike c'è solo un effetto nino oppure no, comunque per dire che c'è un rischio sia legato al conflitto russo-ucraino che alla possibilità del cambiamento climatico che potrebbe portare tensioni ancora e anche il prossimo anno nelle componenti più volatili che contribuiscono a determinare l'inflazione. Però non è tutto negativo perché cominciamo a vedere cosa succede nelle principali aree mondiali e guardiamo a cosa sta succedendo all'inflazione in Cina. Allora, l'inflazione in Cina sappiamo che non si discosta dallo zero, di fatto, la core è un po' più alta ma sempre inferiore all'1%, significativamente inferiore all'obiettivo della banca centrale che è intorno al 3,5%. Ora questo in genere lo leggiamo come un indicatore della debolezza della domanda cinese e ci preoccupa il fatto che la domanda cinese di beni e servizi non contribuisca in misura significativa o come al passato alla crescita del ciclo economico mondiale. se ci confermi, e questo ovviamente continua a valere, ma se rimaniamo focalizzati sul lato dei prezzi, andiamo a vedere tutta la catena dai prezzi alle import fino ad arrivare ai prezzi al consumo, quello che vediamo è che effettivamente la Cina come tutti gli altri paesi ha subito gli effetti di aumento dei prezzi per tutto quello che ci siamo detti sugli input produttivi, la logistica eccetera, li ha trasferiti sui prezzi alla produzione per arrivare a questo zero di consumo, in cui si sommano anche le difficoltà dei consumi delle famiglie, ma se ci fermiamo ai prezzi alla produzione, quello che vediamo è che ha trasferito anche nei prezzi all'export, sia in valuta nazionale che in dollari, questo effetto disinflazionistico. Ora i prezzi all'export della Cina non sono altro che i prezzi all'import dei beni che noi acquistiamo dalla Cina e quindi in un qualche modo possono concorrere a una riduzione di quella che chiamiamo semplicemente inflazione importata. Ovvio non è un fenomeno omogeneo tra paesi, basti guardare quanto rilevano le importazioni della Cina rispetto alle importazioni totali dei paesi, sappiamo che è un partner importante per tutta l'Asia e lo vediamo qui, è un partner importante anche per i paesi dell'Africa subsahariana, per i paesi europei dove ancora, lo ripetiamo, il commercio intra-area, intra-Europa è importante, questo effetto disinflazionistico potrebbe essere un po' più contenuto. Debolezza della crescita cinese che sappiamo concentrato nella debolezza del settore immobiliare, trovate nel rapporto di previsione un box dedicato a questo argomento, perché? Perché è rilevante all'interno della struttura dell'economia cinese appunto e con effetti che vanno a toccare anche altri settori. In termini di valore aggiunto e di occupazione, lo vedete, valore aggiunto sia considerando le costruzioni che i servizi immobiliari ammontano circa il 13-14% del valore aggiunto complessivo, ma si stima anche un indotto del 18%, quindi un rallentamento di questo settore incide misura significativa sulla crescita dell'intera economia. È un peso maggiore se andiamo a vedere in termini di occupazione. Ora con questi dati relativi alla Cina e soprattutto, scusate, quelli relativi al mercato del lavoro vanno sempre presi con le pinze, ma insomma ci dicono che nei dati più recenti che abbiamo un 35% dell'occupazione complessiva è impiegata nel settore immobiliare in senso all'altro. Non è un settore in forte difficoltà, questo è un indicatore degli investimenti in costruzione privata e quindi immaginate il contributo che dà la crescita del PIL, è un settore che va a influenzare anche i comportamenti di consumo delle famiglie, lo fa sia attraverso i mercati finanziari, e lo vediamo nel grafico di destra, gli indici del real estate, la caduta dall'inizio del 2021, già nel 2021 si erano registrati i primi problemi di Evergrande che poi, come dire, sono stati via via tamponati ma mai risolti e probabilmente continuerà a essere così ancora per qualche anno, ad essere ottimista. Una forte caduta, quindi effetti ricchezza potremmo dire per le famiglie, ma anche un effetto fiducia e del mercato immobiliare nello specifico che vede questo crollo dei mutui accesi dalle famiglie per l'acquisto delle abitazioni. Fiducia è che ovviamente abbiamo detto difficoltà del mercato immobiliare che porta a questo crollo della fiducia delle famiglie, qui l'ultimo dato è maggio e l'assenza di dati più recenti, secondo me è un altro segnale debole di quali siano le grosse difficoltà per cui, come dire, vengono sospese le pubblicazioni di alcuni indicatori, punto. Quindi non è dato sapere se ci abbiamo un trend oppure no, ma insomma il sospetto è evidente che è o così o peggio. Questa sfiducia che si riflette in queste vendite al dettaglio che è vero, hanno avuto questo bel rimbalzo, diciamo, post-zero covid strategi alla fine dello scorso anno, ma che nei mesi più recenti continuano ad essere molto modeste, soprattutto se le rapportiamo a quello che era stato l'andamento 12 mesi prima. Gli indicatori congiunturali ce li ha fatti vedere Lorenzo prima, anche per la Cina noi anticipiamo un ulteriore rallentamento nel terzo trimestre di quest'anno e poi nonostante questa debola ripresa che vede una situazione di continuo intervento, se volete, delle autorità di politica economica per evitare che le difficoltà delle grosse imprese edili distruggano completamente al mercato porterà a una crescita mediano del PIB decisamente inferiore all'obiettivo governativo del 5% in tutto l'orizzonte della previsione. In termini di prezzi, nel nostro scenario, visto che nessuna area mondiale riuscirà a trainare una ripresa forte dell'economia, il prossimo anno la Cina continuerà a fornire un contributo nullo o leggermente disinflazionistico a quello che può essere la dinamica mondiale perché ci aspettiamo prezzi all'export sia in dollari che in euro appena sotto lo zero. Inflazione negli Stati Uniti che sta rallentando ma sta rallentando in misura significativa grazie all'energia. Questa piccola ripresa di agosto non è altro che legata a questo contributo negativo che è diventato praticamente nullo da un punto percentuale in meno a nullo della componente energia nell'inflazione al consumo. Però ci aspettiamo, l'abbiamo detto più volte, un contributo che viene dal mercato immobiliare, in questo caso che viene da tutta la parte legata agli affitti dell'abitazione. Se andiamo a vedere... Grazie 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 a tutti. Con questo scenario di rallentamento della domanda interna via consumi delle famiglie, questa è la previsione che già Lorenzo ha accennato dei tassi della politica monetaria, per la BCE ci fermiamo, mi sembra che siamo allineati con la maggioranza del Pol, sugli attuali livelli rimaniamo fermi praticamente per i prossimi 12 mesi prima di iniziare la fase di riduzione, che non vuol dire che cambia l'intonazione della politica monetaria perché se andiamo a vedere di quanto potrà ridursi l'attivo della banca centrale in termini di PIL grazie alla restituzione del TLTRO3, che anche per il prossimo anno ammontano a circa 500 miliardi di euro, quello che vedremo è che alla fine del prossimo anno il totale degli asset della BCE rispetto al PIL sarà più di 25 punti base rispetto al picco della fine del 2021. Per la Federal Reserve, anche qui, però noi immaginiamo che siano finiti gli aumenti del tasso obiettivo sui Fed Fund, nelle proiezioni dei membri del FOM che c'era la possibilità di un ulteriore aumento entro quest'anno, e i mercati sembrano sposare queste ipotesi anche se la probabilità associata a questo evento è inferiore al 50%, se non ricordo male tra il 30 e il 40%, un periodo di stabilità prolungato rispetto a quello dei mercati e qui in linea anche con i nostri Pol, con i Pol che abbiamo visto prima, la Fed partirebbe prima nella fase di riduzione dei tassi rispetto alla BCE, alla metà del prossimo anno e non a settembre, con anche qui una prosecuzione della restituzione della politica monetaria attraverso la riduzione dell'attivo della Fed. Questi interventi per la riduzione degli asset sono alla base di una ripresa dei rendimenti a più lungo termine, che potranno arrivare a determinare una curva per scadenza approssimata dalla differenza tra il tasso governativo a 10 anni e il tasso di mercato a 3 mesi, che potrebbe tornare in territorio positivo nel 2025, un po' prima degli Stati Uniti, rispetto all'Europa. Segnalo infine che già alcuni paesi emergenti, visto il rallentamento dell'attività economica, hanno iniziato a ridurre i tassi di politica monetaria. Non sono solo paesi piccoli, qui dentro sono solo quattro, ma c'è il Brasile e c'è la Polonia. Qualcuno è molto preoccupato dagli effetti disinflazionistici legati all'alta inflazione. Questa la lascio a vostra memoria, ma solo per dire che il 2024 è questo dato di forte rallentamento dell'economia mondiale, i rischi. Ovviamente sono quelli di cui citavo prima, inflazione, il prezzo del petrolio non arresta la fase di crescita e si riflette sull'inflazione sia negli Stati Uniti che in Europa. E quella stima dell'esaurimento del tesoretto delle famiglie, che è basata su un'ipotesi di trend del risparmio, in linea con quanto osservato nel periodo 2010-2019, è evidente che se cambiamo questa ipotesi cambia anche il risultato sull'ammontare del tesoretto, nel caso in cui questo tesoretto non fosse effettivamente esaurito come ci aspettiamo, potremmo vedere ancora crescita dei consumi sostenuta e in questo caso il percorso per la Fed per evitare nuovi surriscaldamenti dei prezzi diventerebbe più stretto, si torna nel caso di intervento della Fed Resser più incisivo, più determinato nell'aumentare i tassi di interesse e sarebbe forse più difficile mantenere l'ipotesi di soft lending. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Stefania. Bene, ben trovati a tutti, partiamo con due parole sul perché di questo titolo, siamo in questa situazione così complicata perché parlare di normalità? Mi sembra che tutto sommato sia questo il filo conduttore di tutte le cose che abbiamo detto stamattina come dopo quattro anni, quasi quattro anni di sconvolgimenti dalla pandemia, l'inflazione, guerra e l'inflazione è in qualche modo l'epifenomeno, se vogliamo usare questo parolone, di tutti questi sconvolgimenti, come le economie possono tornare a una qualche normalità. E se effettivamente facciamo un bilancio, questo per l'economia italiana ovviamente, di che cosa è successo in questi quattro anni ci rendiamo conto di come siano stati anni eccezionali perché nonostante tutto quello che è successo noi ci ritroviamo con un PIL più alto rispetto al 2019, con più occupazione, meno disoccupazione ma ovviamente lo sappiamo bene a fronte di un enorme trasferimento di risorse dal settore pubblico anche dalle politiche monetarie ovviamente ma in questo caso dal settore pubblico al settore privato è aumentato il debito pubblico ma è aumentato anche il risparmio finanziario del settore privato con appunto questo macinio che continua a essere lì e che continua a condizionare il modo in cui riusciremo quando riusciremo a tornare a questa sorta di normalità sempre che esista la normalità ed è l'inflazione che chiaramente è altissima rispetto a questa è l'accumulata di questi anni e questo è come dire in qualche modo mi sembra la sintesi dello scenario nel quale ci stiamo muovendo arrivando a tornando in realtà alla congiuntura e facendo focus sulla congiuntura che cosa sappiamo vi è già stato già mostrato per gli altri paesi l'Italia non si distingue sostanzialmente siamo praticamente in diciamo stagnazione da nove mesi se facciamo vedete ci sono un po' di altalene più meno i vari trimestri ma nella media degli ultimi nove mesi l'economia italiana è cresciuta dello 0,1% quindi praticamente ferma un po' come gli altri anche come la media UEM con però una forte riduzione nel secondo trimestre superiore alle attese anche noi avevamo dato una stima più prudente che cosa da che cosa è stata dovuta è stata dovuta da una stagnazione della spesa delle famiglie da una caduta di tutte le altre componenti spesa delle api ma soprattutto caduta delle esportazioni e caduta degli investimenti molto a carico delle costruzioni costruzioni che sappiamo hanno guidato invece la ripresa e hanno anche rappresentato il fattore differenziale della crescita italiana rispetto agli altri paesi e quindi questo è un dato che preoccupa perché come dire ci interroga su che cosa ci dobbiamo aspettare per queste per queste componenti se andiamo a vedere un po' gli indicatori mensili e quindi diciamo la produzione che chiaramente non è esattamente valore aggiunto ma ci dà delle indicazioni importanti e le andiamo a disaggregare quello che vediamo è che certamente il settore delle costruzioni è in una fase di stabilizzazione dal punto di vista della produzione non siamo ancora in ripiegamento ma certamente non si cresce più la filiera legata alle costruzioni è invece ormai da un anno come vedete in una fase calante così come in fase calante è un po' tutta la manifattura qui abbiamo escluso alcuni settori che sono caratterizzati da delle dinamiche diciamo peculiari quindi abbiamo praticamente da nove mesi nove mesi un anno un'economia che al di là di appunto fluttuazioni trimestre su trimestre è sostanzialmente ferma una manifattura in rallenta rallentamento in riduzione un settore delle costruzioni che è fermo ma che attende diciamo in qualche modo il venire meno degli incentivi del 110% questa è la situazione con quella famosa inflazione di cui avete sentito parlare abbondantemente quindi che cosa ci aspettiamo in termini strettamente congiunturali tutti gli indicatori non ve li propongo nel rapporto che trovate con molto più dettaglio ma che sono sintetizzati nel nostro indicatore settimanale il WEIP come vedete ci portano a come dire a prefigurare una stagnazione le barrette azzurre sono praticamente schiacciate sulla media che identifica appunto un'economia che non cresce non cale e questo ci porta alla previsione del PIL che vedete lì esplicitata un terzo trimestre con una piccola crescita che riflette ancora qualche effetto residuo di recupero del turismo durante l'estate ma un quarto trimestre con un meno che in qualche modo esprime la compressione di potere d'acquisto delle famiglie delle difficoltà le incertezze che stanno fronteggiando le imprese quindi una crescita del duemila e ventitré che è ferma all'acquisito zero sette inferiore non lo non lo posso nascondere alla stima che facevamo a a luglio avevamo uno e uno che cosa ci aspettiamo ovviamente il che cosa ci aspettiamo è legato a che cosa succederà l'inflazione focus italia cosa vediamo vediamo che le attese di inflazione che erano state decisamente in riduzione le avevamo viste anche a luglio negli ultimi due mesi direi hanno smesso di scendere ossia sia le famiglie che le imprese non si aspettano più una riduzione o perlomeno il saldo questo sono indicatori qualitativi quindi è un saldo tra chi pensa che si ridurranno chi pensa si ridurrà chi pensa che invece crescerà vedete non si aspettano più una riduzione dell'inflazione questo è chiaramente qualcosa di cui preoccuparsi su cui riflettere i dati oggettivi diciamoli rilevati che cosa ci dicono ci dicono che i prezzi alla produzione sono ancora in caduta nel senso scusate l'inflazione prezzi alla produzione è in caduta in termini corrispondenti ma ci sono già dei segnali di ripresa mese su mese di alcune componenti e in particolare dell'energia lorena prima vi ha come dire spiegato i motivi per i prezzi al consumo ahimè sono usciti adesso quindi non ho fatto in tempo a aggiornare il grafico col dato di settembre insomma li sono scritti però andando a memoria abbiamo ancora una riduzione del tasso di inflazione che rallenta al 5 3 dal 5 4 quindi una cosa piuttosto come dire modesta ma ci sono diverse componenti che hanno ricominciato a crescere e tra queste ci sono c'è le energie specialmente quelle legate al petrolio e ci sono gli alimentari non trasformati che continuano a non a non vedere una riduzione nella nei prezzi proprio ok quindi c'è un'inflazione che rallenta perché ci sono gli effetti base ma non c'è una riduzione dei prezzi e poi come ha ricordato lorenzo rera ieri è uscita con le anticipazioni sul quarto trimestre tariffe del mercato tutelato più 18 e 9 per cento nel quarto trimestre che vabbè chiaramente aggiunge frizioni chiamiamole frizioni a quella discesa dell'inflazione che ci aspettavamo e quindi il quadro si fa se possibile ancora più complesso ci sono fattori positivi e negativi in prospettiva il primo è un fattore come dire banale se lo vogliamo definire così e sono gli effetti base per la germania già e per diversi paesi dell'area euro in settembre però non sono riuscita a guardare i dati per bene dovrebbero essere usciti anche loro i trelieri oggi per l'italia noi avremo un forte effetto base in ottobre perché in ottobre l'indice dei prezzi lo scorso anno era cresciuto come vedete del 3 e 6 per cento e dovete fare riferimento alla scala di destra e quella barra segnata così alta e quindi a meno di aumenti eccezionali anche il prossimo ottobre l'indice scenderà l'indice aggregato diciamo potrà scendere in modo piuttosto consistente anche di due tre punti quindi in ottobre attenzione a come all'indice che uscirà e a come questo risultato come dire dovrà essere interpretato quindi potremmo vedere effettivamente una riduzione forte dei tassi di inflazione misurati appunto in modo standard in termini sul corrispondente ma questo non necessariamente vorrà dire che saremo fuori da questa esperienza inflazionistica perché ciò che rileverà sarà appunto come dire come si muoveranno mese su mese i prezzi e abbiamo visto ripeto che ultimamente i prezzi hanno ricominciato a salire dopo qualche mese invece di ehm di caduta qui chiaramente è determinante capire cosa succederà ai salari e ai profitti come ha ricordato Lorenzo qui avete due eh come dire eh chiavi due un po' di un po' di evidenza trovate più documentazione nel rapporto i salari in Italia stanno salendo come potete vedere però siamo ancora su livelli molto bassi e largamente inferiori alla crescita dell'inflazione quindi le retribuzioni nominali eh reali sono ancora negative in Italia anche le spinte dei profitti che pure avevamo visto eh avevano rappresentato uno dei fattori di come dire alimentazione di eh convalida quanto meno dell'inflazione lo scorso anno nei eh primi due trimestre dell'anno stanno scendendo e sono comunque su dimensioni inferiori a quelle dell'area UEM quindi da questo punto di vista le spinte in Italia sembrano tutto sommato eh forse meno forti che eh che altrove d'altro canto però abbiamo un mercato del lavoro che continua ad essere eh molto robusto eh il grafico di sinistra vi mostra qualche piccolo becchettino all'ingiù nei dati più recenti eh l'occupazione ha smesso di crescere però siamo ancora su eh livelli molto elevati e soprattutto voglio segnalarvi questo aumento di occupazione che è proseguito per tutto lo scorso anno a fronte di quella stagnazione di attività economica che abbiamo visto perché perché eh questa è la nostra come dire lettura ed è in qualche modo anche rappresentata dagli altri due grafici della slide il mercato del lavoro italiano non solo ma eh il mercato del lavoro italiano in modo particolare è alle prese con una eh come dire difficoltà a reperire mano d'opera nonostante l'ampio bacino potenziale di lavoratori abbiamo un tasso di disoccupazione che anche se ridotto è comunque elevato abbiamo un tasso di partecipazione molto basso quindi i lavoratori in teoria potrebbero esserci però le imprese e come vedete il grafico al centro ehm esplicita proprio questa difficoltà che è peculiare delle imprese italiane per le imprese degli altri paesi questo tipo di ostacolo è venuto meno negli ultimi tempi eh continuano a lamentare un problema di eh incapacità impossibilità a trovare occupati lavoratori e questo ce lo dice anche la Cuvra di Beveridge eh che è su livelli eh massimi mette in relazione il tasso di disoccupazione col tasso di posti vacanti come vedete continuiamo ad essere su livelli altissimi allora questo è credo davvero uno dei temi eh fondamentali dei temi strutturali dell'economia italiana eh si intrecciano temi demografici temi eh legati alla eh capacità del sistema di informazione a rispondere alla domanda eh i prossimi anni vedranno come dire una sfida posta dagli interventi del PNRR con la domanda di lavoro che eh quei particolari investimenti che eh come dire in qualche modo alimenteranno il tema della transizione climatica con tutte le competenze che questo richiederà allora questi fenomeni sono fenomeni eh molto ampi eh che porteranno probabilmente a trasformazioni molto profonde su un mercato del lavoro che già adesso eh sembra essere eh in tensione. A questo abbiamo dedicato una eh discussion note che uscirà nelle prossime eh nelle prossime settimane quindi vi rimando a questa per una riflessione un po' più strutturata su questi temi. Proseguendo eh nel frattempo la politica monetaria è stato detto sta eh facendo il suo lavoro trasmette i suoi impulsi restrittivi. I tassi di interesse in Italia come vedete stanno crescendo in misura eh come dire correlata all'aumento dei tassi di policy. I prestiti sono crollati molto di più rispetto alla media dell'area euro per le imprese in modo particolare anche per le famiglie c'è un piccolo segno meno mentre per l'area per l'UEM c'è ancora una una piccola crescita. Le condizioni di accesso al credito come vedete nelle opinioni delle degli operatori anche nella nella BLS sono eh sicuramente in una fase di restrizione se non comparabile a quella della del credit crunch del del 2012-2013 però sicuramente comincia a essere eh importante quindi questo è un dato eh eh rilevante e l'altro dato rilevante però eh come dire di segno opposto è che comunque sia le famiglie che le imprese sono ancora ben eh come dire eh protette da quel eccesso di risparmio che è stato accumulato. Lorenna vi ha mostrato negli Stati Uniti nell'area UEM che cosa è stato questo è il eh diciamo l'immagine per l'Italia. Noi ci aspettiamo che ancora nel 2023 quindi la stima per quest'anno ci sia un risparmio per le imprese addirittura ancora superiore alla media quindi che continua a esserci eh non non ci siamo sbagliati a fare la scala è è così schiacciata perché è comparabile sono comparabili i eh le scale dei due grafici eh ovviamente il saldo finanziario delle imprese è molto più piccolo di quello delle famiglie ma in teoria eh non ci dovrebbe nemmeno essere un saldo positivo le imprese strutturalmente dovrebbero essere in in passivo perché dovrebbero investire e e le famiglie invece dovrebbero risparmiare e trasferire eh eh fondi alle imprese per gli investimenti quindi persiste questa sorta di anomalia di un risparmio eh di un saldo finanziario positivo per le imprese e le quello delle famiglie invece comincia a eh come dire restringersi e a tornare sui livelli precrisi però il risparmio accumulato è ancora lì ma attenzione non è proprio tutto lì facilmente disponibile perché come abbiamo già mostrato anche nel rapporto di ehm di luglio e qui come dire eh approfondiamo questo ragionamento questo risparmio è stato accumulato in particolare dalle famiglie più abbienti no dei eh come dire che appartengono ai decili di eh di ricchezza di reddito più elevati in Italia la ricchezza è particolarmente concentrata vedete come il 5% più ricco della popolazione detenga una quota molto importante di tutta la ricchezza eh delle famiglie eh anche l'allocazione ovviamente di questo risparmio è diversa a seconda del del tipo di ehm punto di di dove ci si posiziona nella scala dei redditi le famiglie più ricche sono quelle che diversificano di più la loro ricchezza mentre le famiglie più povere hanno tutt'al più un conto eh un conto corrente complessivamente però questo eh risparmio è eh come dire in una fase di profonda e vorrei dire anche eh come dire veloce drammatica ricomposizione l'aumento così repentino dei tassi di interesse sta sgonfiando in modo molto rapido i conti correnti e sta parallelamente invece eh aumentando la quota di eh risparmio allocato in depositi a termine e in titoli del debito pubblico oltre che in forme di risparmio gestito titoli del debito pubblico che chiaramente sono una bella notizia per il settore pubblico ma eh che qualche modo tolgono eh possibilità no liquidità a quella ricchezza accumulata eh nel sostenere eventualmente i consumi quindi sintetizzando una situazione in cui ehm le famiglie e le imprese sono ancora eh ben diciamo lasciatemi passatemi il termine capitalizzate nel senso che hanno ancora un risparmio accumulato hanno un risparmio positivo il mercato del lavoro ancora solido quindi sono a tutti mediamente qui non stiamo facendo questo bisognerebbe sempre ricordarlo poi per per la fretta non lo si dice ma stiamo facendo un discorso aggregato in media questo non vuol dire che non ci siano ovviamente sacche di difficoltà di povertà di di eccetera tra le imprese e tra le famiglie però chiusa la parentesi eh mediamente il sistema sembra ben attrezzato per eh come dire convalidare quel soft landing di cui eh parlava Lorenzo eh transitare eh e superare questo shock inflazionistico con un rallentamento eh dei consumi degli investimenti e quant'altro ma non con una recessione. È chiaro che in questo contesto il ruolo della finanza pubblica quindi delle politiche di bilancio è fondamentale così come lo era stato durante eh la pandemia e nel periodo successivo. La finanza pubblica come sapete è chiamata in questi eh in questi mesi in questi e poi nel futuro a eh tornare alla normalità no? Rientrare nei parametri eh di eh un qualche tipo di patto di stabilità così come verrà definito non è stato ancora definito comunque da un contesto in cui deve essere ridotto l'indebitamento e possibilmente il debito. La congiuntura che cosa ci dice? Da questo punto di vista la congiuntura ci dice che le cose non stanno andando malissimo anche se eh durante l'estate i giornali sono stati un po' pieni di eh titoli allarmanti sull'aumento dell'indebitamento rispetto del fabbisogno scusate del fabbisogno rispetto allo scorso anno. È vero questo aumento c'è stato però ci sono tutta una serie di ehm fattori di elementi di spiegazioni sui quali non vi eh tedio ora ma che trovate dettagliati nel rapporto eh che eh come dire rendono compatibile quell'aumento con una riduzione dell'indebitamento e quindi da questo punto di vista eh i conti pubblici non stanno andando malissimo nonostante il rallentamento economico come vedete le entrate tributarie per esempio sono in crescita e in crescita anche abbastanza sostenuta e questo è il primo dato. Il secondo dato è che nonostante questo dire messaggio rassicurante che vi ho dato che vi ho dato eh scusate il finanziamento del debito sta pesando sui conti lo sta facendo in maniera piuttosto eh evidente eh aumenta lo stock di titoli eh che devono essere messi perché il fabbisogno è aumentato e quindi eh questo richiede più emissioni più emissioni a costo più alto e vedete com'è schizzato il eh costo medio eh alle emissioni la linea verde. Eh motivo di preoccupazione in più sono le tensioni degli ultimi giorni che vedete rappresentate nel grafico di destra. Noi nella previsione ipotizziamo che siano tensioni temporanee che in qualche modo rientreranno però il nostro eh spread quindi il nostro differenziale rimane comunque un differenziale importante che come dire proiettiamo per tutto l'orizzonte di previsione. Quindi il tema del finanziamento del debito è un tema che è tornato eh molto eh importante, rilevante, prioritario e che ci accompagnerà nei prossimi anni. Secondo aspetto ovviamente come eh sta incidendo il costo del super bonus e degli incentivi in particolare di questo che eh come mostra il grafico ha praticamente raddoppiato il suo onere per le finanze pubbliche eh dalla stima iniziale alle ultime stime disponibili. Eh sta venendo meno come sapete tra la fine di quest'anno e i primi mesi del prossimo anno tutti gli interventi dovranno essere conclusi però il costo poi è qualcosa che come sapete ci porteremo dietro specialmente nella valutazione del debito. Anche se e qui eh so che ci sono opinioni discordanti certamente eh l'impulso alla domanda è stato un impulso importante ed è uno dei fattori che spiegano anche la eh le migliori performance dell'economia italiana rispetto agli altri paesi. Terzo elemento per quello che riguarda la finanza pubblica alla revisione del PNRR se ne è parlato tanto è arrivata quest'estate una proposta che è stata inviata alle autorità in eh in Europa diciamo genericamente che è in corso di eh discussioni approvazione non c'è ancora l'approvazione definitiva. Il piano prevede tutta una serie di modificazioni mh vado veloce e vi rimando al rapporto dove trovate invece molto dettagli che cosa è importante per noi ricordare è che eh il piano così come è stato definito prevede meno investimenti pubblici diretti e invece più spesa eh diciamo finanziata con dei contributi e quindi più investimenti privati e da questo punto di vista con qualche opportunità in più diciamo che vengano effettivamente eh eh portati a termine perché eh come dire si è in qualche modo preso atto delle difficoltà delle amministrazioni pubbliche di eh fare effettivamente questi eh questi interventi e la spesa è stata anche spostata in avanti meno nel ventitré l'abbiamo visto dai dati nel ventiquattro e più venticinque ventisei. Per quello che riguarda la nostra previsione questo non sposta tantissimo perché noi avevamo già in mente che eh questa sarebbe stata eh come dire sarebbe stato un esito verosimile e quindi avevamo già come vedete la linea arancione avevamo già eh ipotizzato una eh spostamento in avanti delle spese addizionali per il PNRR però questo è un altro elemento di cui tenere conto. Questo quindi ci dice anche che che il ventiquattro risulterà essere un anno estremamente complicato per l'economia italiana perché da un lato da un lato verrà meno il centodieci per cento dall'altro il PNRR non sarà ancora o gli interventi eh finanziati da PNRR non saranno ancora pienamente operativi e saranno appunto eh come dire in via di definizione e quant'altro per cui il rischio di un vuoto di domanda è tutt'altro che eh come dire irrilevante. E arriviamo alla nota di aggiornamento al DEF che ahimè eh è uscita ma non è uscita quindi ci sono anticipazioni di stampa eh non ne sappiamo praticamente niente però ne parlano tutti per cui dobbiamo parlarne un po' anche noi ehm quindi mi scuso in anticipo delle imprecisioni e delle cose che dirò che non non risulteranno vere una volta che ci sarà effettivamente il il testo eh qui abbiamo raccolto un po' le cose che girano sui giornali eh che cosa si dice? Si dice che ehm a parità di disavanzo tendenziale qui il confronto è fatto rispetto al DEF eh ci sarà appunto questa manovra di eh dello zero sette per cento dei famosi quattordici eh quattordici miliardi il disavanzo programmatico è stato alzato eh dal tre sette al quattro e tre eh con una crescita che appunto eh è stata rivista a ribasso ma rimane comunque una crescita importante per il ventiquattro all'uno e due per cento il debito su pile è sbagliato mi dicono sì non è centoquattro magari fosse centoquattro sì era un debito come dire vi scioltinchi vabbè è un sogno sì ok scusate sì ehm eh questo è il frutto di fare le cose come dire a mezzanotte della sera prima ehm è stato ridotto cioè è stato ridotto il percorso di riduzione scusate sono un po' eh suonata e quindi eh di riduzione dell'indebitamento che come vedete arriverebbe a eh come dire eh superare la soglia o a a del del 3 per cento solo eh nel nel 26 e non già nel 25 come nel nel DEF quindi sono state come dire ammorbidite le eh gli obiettivi di di riduzione dell'indebitamento questo è il confronto di questi numeri ripeto ancora molto così giornalistici della Nadef con le nostre previsioni non siamo molto distanti noi siamo un po' eh più eh pessimisti quindi abbiamo indebitamento ancora più alto eh di quello che qui è indicato per una serie di eh di motivi ma vorrei solo richiamare la vostra attenzione su questi su questi aspetti eh il primo è il tema della manovra si parla di 14 miliardi eh ricordo che 8 miliardi è il costo stimato della proroga della riduzione del costo eh del 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 cuneo così come 10-12 miliardi è la stima del rinnovo dei contratti pubblici e delle cosiddette politiche invariate allora capite che già 10-12 più 8 fa 20 quindi insomma tanto spazio per eh interventi addizionali non sembrano esserci se non ovviamente in eh nella manovra stessa e quindi in riduzioni di altre poste però come sappiamo bene ridurre altre eh aumentare l'entrata o ridurre le 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 spese è sempre un'aspirazione molto complicata. Il secondo aspetto che eh ci sembra particolarmente critico è che quel 4,3% che come vedete non è un un valore eh così mh fuori linea noi stimiamo un 4,4% di indebitamento l'anno prossimo ma eh tanto con una manovra molto inferiore eh perché riteniamo che la crescita verosimilmente sarà molto inferiore all'1 e 2 e che quindi quell'indebitamento non sarà il frutto di una appunto manovra espansiva ma sarà il l'effetto endogeno di una minore crescita e quindi chiudendo il ragionamento il rischio è o la manovra non ci sarà o se si vorranno effettivamente fare interventi espansivi il costo e quindi l'aumento dell'indebitamento possa essere molto più alto. A questo punto è chiaro anche che il rischio l'abbiamo già visto solo no al all'annuncio che si possa deviare dal percorso e aumentare un po' il deficit dove è andato lo spread beh insomma il rischio che eh sulla sulla diciamo sugli interessi anche sulla collocazione del debito possano esserci eh problemi eh è tutt'altro che eh irrilevante. Lo stesso sul percorso di riduzione del debito eh non ci sono tutti i dati quindi abbiamo solo questo punto finale eh come vedete una riduzione del debito prefigurata molto modesta eh noi ne eh come dire ne ipotizziamo una ancora meno 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 eh meno forte ma perché siamo consapevoli tra i tanti fattori del eh del costo eh dei costi finanziari del 110% che come sappiamo dovranno essere scontati nei prossimi anni perché emergeranno mentre sull'indebitamento sono stati concentrati nel momento in cui è stato dire approvato il l'intervento poi i costi finanziari invece saranno eh distribuiti nei prossimi anni e questo chiaramente eh sosterrà il debito assieme ovviamente a tutte le altre agli altri fattori che abbiamo visto quindi il rischio che il debito possa non scendere è eh molto molto alto. Chiudo perché sono in ritardo? Eh queste sono le nostre previsioni crescita come vedete eh l'anno prossimo molto bassa perché entriamo molto bassi la ripresa sarà comunque modesta 0,4 per cento eh devo dire che l'1 e 2 facciamo proprio fatica anche a mettere come dire un profilo che abbia una qualche eh qualche verosimiglianza poi per carità i miracoli sono sempre possibili quindi non non vogliamo porre limiti eh inflazione in rallentamento ma inflazione scusate in riduzione eh ma con i rischi eh del che alleggiano sull'energia che sono stati ricordati compatibile tutto ciò con un risparmio che eh come vedete un tasso di risparmio che eh che scende che rimane più basso di quello precrisi proprio perché c'è quel pregresso che consente questo tasso di risparmio più basso e che quindi in qualche modo sostiene una crescita dei consumi non brillantissima ma comunque tale da garantire una eh un'espansione del PIL con investimenti e qui non fatevi ingannare da quei tassi di crescita che sembrano piccoli ma se eh li confrontiamo col fatto che abbiamo avuto quelle crescite fortissime eh degli anni passati dovuti al centodieci per cento il fatto di non avere delle riduzioni altrettanto violente vuol dire che ci sono altri investimenti che vanno a compensare e sono quelli del PNRR quindi continuiamo a ritenere che il ruolo che dovrà giocare il PNRR è eh non solo importante ma eh fondamentale per garantire la possibilità di crescita dei prossimi anni. Indebitamento e debito li ho già commentati eh l'ultima slide solo per ricordare come facciamo sempre eh dove ci posizioniamo in termini di PIL pro capite l'abbiamo detto eh in economie che eh società che invecchiano e la cui popolazione scende eh dobbiamo ragionare in termini di PIL pro capite. Il PIL pro capite aumenterà eh nei prossimi anni nelle nostre stime eh eh saremo diciamo i secondi dopo la Spagna quindi un risultato tutt'altro che eh disprezzabile non vi traga in inganno anche la diversa scala ho provato a metterli sulla stessa scala ma si schiacciavano talmente tanto che non si vedeva niente quindi è una crescita modesta non sono crescite molto elevate ma è tutto tutto sommato un cambio di passo importante rispetto al passato. Il grafico di destra come al solito vi ricorda da dove veniamo dal duemila al duemila diciannove il PIL pro capite italiano è sceso e quindi già prefigurare una crescita costante quantanque modesta è un risultato che come dire risponde a tutte quei quelle condizioni che ho ricordato e con tutti i rischi quindi associati. Grazie dell'attenzione e chiuderei. Allora io accolgo Marcello Messori che ringrazio moltissimo di essere qui con noi eh attualmente professore era lui sei direttore anche della non più ok va bene direttore di tante cose comunque grazie mille di essere con noi prenditi il tempo che credi ok. Grazie molte mi fa molto piacere avere questa opportunità di discutere eh un rapporto di previsione che come al solito è estremamente ricco e stimolante avrei eh la forte tentazione di eh come dire fare domande entrare nel merito eh commentare ma come ricordava eh Lorenzo Lorenzo Forni che ringrazio molto per avermi coinvolto eh eh in questa occasione eh avremmo un po' deciso la seguente divisione dei compiti mentre eh ovviamente essendo un rapporto di previsione eh noi abbiamo esaminato fino ad ora eh dinamiche congiunturali seppure con impatti strutturali io vorrei eh soffermarmi di più su prospettive di medio lungo periodo e per parafrasare un po' eh come dire eh eh l'ultimo eh titolo dell'intervento cioè stiamo ritornando a una normalità beh la mia risposta sarà che eh forse ritorneremo una normalità ma per farlo avremo un percorso a livello di Unione Europea piuttosto accidentato perché dovremo provare ad attuare grandi trasformazioni e eh in effetti ho già sbagliato eh come dire l'ordine della eh eh della sequenza delle slide in effetti eh io vorrei eh partire da eh un'affermazione che cercherò eh di argomentare cioè che certamente eh gli shock che si sono succeduti negli ultimi quindici anni rispetto all'Unione Europea che sarà l'oggetto della mia riflessione, l'oggetto esclusivo eh della mia eh riflessione eh gli ultimi shock del eh a partire dalla crisi finanziaria internazionale del duemilasette e duemilanove sono stati tutti di intensità drammatica ma a differenza di quelli precedenti eh l'aggressione russa dell'Ucraina e anche l'inattesa persistenza delle strozzature dal lato dell'offerta eh del periodo post pandemico eh sono eh gli unici shock che abbiano determinato una rottura nel come dire andamento sia interno che internazionale dell'Unione Europea e dunque eh eh giusta questa considerazione eh per tornare alla normalità occorrerà ridefinire un po' il modello produttivo eh dell'Unione Europea. Per eh giustificare eh questa mia affermazione così drastica un secondo punto che vorrei toccare è riflettere seppure molto brevemente su quelle che sono le caratteristiche attuali dell'Unione Europea e se io dovessi proprio come dire con una pistola alla tempia semplificare e chiedermi ma quali sono gli elementi di vantaggio comparato e gli elementi di svantaggio del modello economico che ha caratterizzato fino ad ora la seconda più importante area economica a livelli internazionali. Io direi che eh l'Europa, l'Unione Europea e eh anche l'Italia nell'ambito dell'Unione Europea ha un vantaggio comparato piuttosto rilevante in termini di impatto ambientale certamente ha un vantaggio comparato in termini di capacità di regolamentazione eh dei mercati e di inclusione sociale. Insomma, basso impatto ambientale e modello sociale sono un po' le cifre che hanno caratterizzato eh l'Unione Europea in questi anni. Eh a fronte di questi elementi di vantaggio comparato che o quantomeno che io giudico di vantaggio comparato eh vi sono però eh due elementi di estrema debolezza. Eh l'Unione Europea e cercherò di nuovo di dimostrarvelo dimostrarvelo ha accumulato ritardi drammatici in termini di innovazione nel digitale e nell'intelligenza artificiale e ha retto la propria crescita spesso stentata spesso inferiore al potenziale eh sulle esportazioni nette il che ai miei occhi appare un paradosso la seconda più importante area economica internazionale eh come dire ha basato la sua crescita sulla esportazione di eh deflazione al resto eh del mondo. Allora se eh siamo fossimo d'accordo su questa mia diagnosi la condizione necessaria eh per mantenere gli elementi di vantaggio comparato sarebbe quella di eh ridurre o eh tendenzialmente riassorbire gli elementi di debolezza ma per farlo soprattutto per farlo nella nuova eh configurazione interna e internazionale aperta dall'aggressione russa dell'Ucraina a mio avviso è necessario eh che eh l'Unione Europea ridefinisca il proprio modello eh di produzione. Cosa vuol dire ridefinire il modello di produzione? Beh seppur in modo estremamente rozzo e approssimativo io cercherò di usare due parole chiave nuova politica industriale e come articolazione essenziale di una nuova politica industriale produzione dove l'enfasi è sul termine produzione cioè dal lato dell'offerta e non della domanda di beni pubblici eh davvero europei. Allora questo è un pochino il mio menu eh come potete capire bene data l'ora tarda eh procederò con sciabolate quindi eh mi scuserò di essere poco articolato nella mia argomentazione però questo spero sarà l'occasione per stimolare discussioni, critiche, eh osservazioni e per avere ulteriori occasioni di discussione insieme. Allora molto brevemente eh pass parto dal primo punto perché eh attribuisco un elemento di discontinuità così forte allo shock derivante dall'aggressione russa dell'Ucraina e dalla persistenza delle strozzature dal lato dell'offerta. Io credo che una parola chiave per risparmiare tempo e giustificare questa mia posizione risieda nel riflettere sul policy mix adottato dall'Unione Europea. Io qui potrei farvela molto pallottose incominciare eh come dire dalla crisi finanziaria internazionale e mostrare le deficienze del policy mix eh nella fase immediatamente successiva allo shock eh da eh crisi finanziaria internazionale al cosiddetto sudden stop e eh alle politiche procicliche fiscali. Lasciatemi però come dire semplificare un po' l'analisi e partire invece dalla pandemia. A differenza di una risposta inadeguata da parte delle istituzioni europee nel periodo duemilasette eh duemiladiciannove duemiladiciotto io credo che la risposta eh alla pandemia in termini di policy mix sia stata molto efficace. Non fraintendetemi. Non voglio dire che un buon policy mix richieda politica monetaria espansiva e politica fiscale espansiva. Questo dipenderà ovviamente dall'andamento ciclico. Però nell'andamento ciclico determinato dallo shock eh persistente della pandemia certamente eh le istituzioni europee hanno saputo attuare una politica eh monetaria ultraespansiva usando eh sia i canali monetari che i canali eh bancari. Qui basti ricordarsi agli EPP pandemici eh al eh ridefinizione del TLTRO3 e eh al ripristino dell'altro e così via. Eh soprattutto questa politica monetaria ultraespansiva ha creato una sorta di rete di protezione per le politiche di bilancio nazionali che hanno potuto trasferire ingenti risorse potremmo quasi dire eccessivi ingenti risorse a famiglie e imprese che però era giustificata dalla drammaticità dello shock pandemico. Questo ha impedito che molte imprese europee efficienti in condizioni normali fallissero ha impedito un aumento della povertà assoluta e relativa drammatica nell'Unione Europea e quindi come dire anche i paesi ad alto debito hanno riacquisito spazi di capacità fiscale che sembravano insospettabili ma soprattutto il policy mix del posto della di risposta alla pandemia si è eh come dire incentrato su un elemento di novità cioè una eh costituzione ancora temporanea ma significativa di una capacità centrale fiscale. Qui i puristi eh eh che studiano l'Europa e da cui sono circondato perché da molti anni non faccio altro mi ricorderebbero che esisteva già una capacità fiscale centrale. E' vero ci sono molti programmi eh su cui potremmo dibattere di capacità fiscale centrale ma non sulla scala prima di Shore e poi di Next Generation EU o se preferite di Recovery and Resilience Facility. Allora la cosa interessante io qui non riporto il grafico perché è estremamente noto è che nonostante una depressione che se noi analizzassimo soltanto il primo semestre 2020 è stata la più drammatica degli ultimi due secoli noi abbiamo avuto come dire un periodo di ripresa molto a breve termine. Questa eh depressione che noi pensavamo nella seconda metà del 2020 fosse epocale praticamente è stata riassorbita in un semestre o poco più. Questa depressione però ha lasciato come dire eh dei residui residui importanti cioè strozzature eh drammatiche dal lato eh dell'offerta e queste strozzature insieme all'aggressione russa hanno configurato un nuovo shock rispetto al quale a mio avviso il policy mix almeno per il momento non è stato così efficace come eh in risposta alla pandemia. Di nuovo non fraintendetemi io penso che una politica monetaria lasciata sola non potesse fare altro di quello che ha fatto la BCE. Potremmo discutere se eh posti i dati su eh la dinamica inflazionista iniziare da gennaio duemilaventuno con poi un eccesso di inflazione rispetto alla soglia del due per cento dal luglio duemilaventuno richiedesse una risposta eh 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 meno ritardata cioè non un posponimento di restrizioni in termini di liquidità offerta da marzo duemilaventidue con aumento dei tassi di interesse di policy dal luglio del duemilaventidue però se noi ci sottraiamo a questa discussione eh eh poco forse poco interessante certamente di fronte ai dati eh sulla dinamica dei prezzi noi non possiamo dire che una politica monetaria lasciata a se stessa non può che restringere. Eh Lorenzo ci ha fatto vedere prima un grafico interessante eh ancorché apparentemente semplice cioè di domande aggregate offerte aggregate. Un grafico simile a quello che abbiamo usato Marco Butti ed io eh in un paper per Vox EU con una differenza però a nostro avviso l'incremento della domanda aggregata nell'Unione Europea è stato un po' più debole di quanto non ci abbia eh fatto vedere Lorenzo e quindi questa politica monetaria lasciata sola che eh non poteva far altro che restringere ma che restringendo non poteva far altro che operare dal lato della domanda aggregata in realtà cosa ha fatto? Ha fatto spostare verso sinistra la curva della domanda aggregata in un periodo in cui lo shock veniva da uno spostamento verso l'alto della curva dell'offerta aggregata. Questo certamente come dire era la reazione corretta con tutti i leg temporali che conosciamo per porre sotto controllo la dinamica inflazionistica ma aveva l'effetto di eh come dire pesare negativamente su una crescita fragile e ancora assegnata dagli effetti eh post pandemici. Quale sarebbe stata l'alternativa in termini di policy mix? Beh agire con un contro shock dal lato dell'offerta eh seguendo la metodologia indicata dal policy mix eh della pandemia perché il policy mix della pandemia diceva combiniamo in modo eh come dire conforme adeguato politica monetaria centrale politiche fiscali nazionali e politica fiscale centrale quindi eh la tesi è che uno shock da un contro shock dal lato dell'offerta fondato sulla produzione quindi sull'incremento dell'offerta di beni pubblici europei avrebbe consentito alla politica monetaria di non essere lasciata sola e quindi avrebbe mitigato gli effetti che abbiamo visto anche nel rapporto e che ci stanno conducendo a una stagflazione eh nell'Unione europea una stagflazione con eccesso di inflazione che quindi io persistentemente continuo a chiamare stagflazione. Allora eh perché tutto questo è particolarmente preoccupante? Perché si innesta su cambiamenti molto importanti a livello internazionale cambiamenti che già come dire si manifestavano eh nel periodo successivo alla crisi finanziaria internazionale ma che l'aggressione eh russa dell'Ucraina ha certamente acuito e cioè l'intensificazione di un conflitto fra Stati Uniti e Cina che eh è un conflitto sostanzialmente tecnologico almeno se visto con gli occhiali di un economista ma che ovviamente si innesta dopo la guerra in Ucraina eh con un conflitto geopolitico. Allora eh qualche anno fa nel 2022 eh abbiamo pubblicato sempre con Marco Butti questo grafico che non è un grafico di fantasia perché si fonda su dei dati che se chi è interessato posso poi dare l'indicazione sono stati forniti dalla DG eh digitale dell'Unione europea su investimenti in eh tecnologie sia in tecnologie digitali che in tecnologie di intelligenza artificiale con particolare riferimento ai computer quantici. Allora che cosa ci dicono questi dati? Eh beh se noi mettiamo sull'asse della scisse qui naturalmente abbiamo proceduto a sciabolate eh un indicatore di eh sostenibilità e sull'asse delle ordinate un indicatore di eh 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 frontiera innovativa in termini tecnologici noi vediamo che la Cina che naturalmente aveva un modello eh sostenibilità sociale welfare se vuoi sì welfare basso impatto ambientale regolamentazione cioè i punti di forza lì abbiamo anche lì degli indicatori in una tabella eh che ci è sempre stata fornita da eh DG eh in questo caso economia eh eh allora la Cina come vedete ormai compete con gli Stati Uniti. Eh gli investimenti per esempio in intelligenza artificiale della Cina sono tre volte quelli degli Stati Uniti anche se gli Stati Uniti mantengono un elemento di vantaggio comparati in termini di digitale ma l'Europa ha accumulato un ritardo drammatico. Eh naturalmente l'Europa rimane con un vantaggio eh relative in termini di sostenibilità sociale ma la domanda è fino a quando sarà possibile mantenere questo vantaggio avendo questo divario tecnologico soprattutto in un ambiente internazionale che non è più caratterizzato da una cooperazione conflittuale consentitemi questo bisticcio di parole multilaterale ma si sta sempre più avvicinando a un conflitto bilaterale. Per la stabilità internazionale noi avremmo bisogno di un terzo polo di un'area che pervicacemente persegua il multilateralismo eh l'idea è che se l'Unione Europea ha questo ritardo tecnologico difficilmente potrà svolgere questo ruolo ma soprattutto non può in un ambiente internazionale di questo genere pensare che le esportazioni nette trainino la crescita. Consentimi di dire in modo un po' provocatorio per fortuna non potrà più contare sulle esportazioni nette che trainino la crescita perché la tesi un po' estrema che vorrei proporvi è che esportazioni nette così positive come quelle accumulate soprattutto dall'euroarea dopo la crisi finanziaria internazionale fino alla pandemia sono l'altra fascia del ritardo tecnologico perché in termini di contabilità nazionale avere esportazioni nette positive non vuol dire altro che avere tassi di risparmio costantemente persistentemente inferiori ai tassi di investimento. Allora io trovo questo semplicissimo grafico estremamente interessante. Queste le linee quella tratteggiata e quella continua arancione quantomeno per il mio grado di daltonismo rappresentano rispettivamente gli investimenti in ricerca e sviluppo Stati Uniti e Unione Europea. Come vedete gli Stati Uniti hanno accumulato un vantaggio permanente dal 2000 ad oggi in termini di investimenti in ricerca e sviluppo. Gli histogrammi invece sono gli avanzi di partite correnti. Come vedete è stato drammatico l'incremento degli avanzi di partite correnti dell'Unione Europea e ancora di più sarebbero quelli dell'euroarea fino allo scoppio della pandemia. Allora questo modello è finito. Non siamo più in un ambiente internazionale che consenta una crescita fondata su basi a mio avviso così perverse. Allora se noi vogliamo difendere il modello sociale europeo e rilanciare una crescita di medio-lungo periodo noi abbiamo bisogno di modificare questo modello e tutti noi in questa sala e chi ci ascolta sono consapevoli che il tasso di crescita potenziale, il PIL potenziale altro non è che la combinazione tra due componenti, la dinamica demografica e quindi la crescita della popolazione attiva e la dinamica della produttività, della produttività del lavoro e delle altre forme di produttività. Allora sappiamo tutti che la demografia in Europa è pessima, che quella italiana è ancora peggiore della pessima demografia europea. Se dai demografi ci facciamo sottolineare che per invertire una dinamica demografica abbiamo bisogno di molto tempo non abbiamo altro che un fattore, la dinamica della produttività. Ma e qui vengo come dire al mio punto davvero possiamo pensare nell'Unione Europea e nell'Euroarea di rilanciare la produttività in un mondo che è un mondo di conflitto bilaterale fondato sulla dinamica tecnologica, dinamica tecnologica nel digitale e nell'intelligenza artificiale mantenendo un modello che è sostanzialmente basato su tecnologie mature in una manifattura che è forte, che continua ad essere forte ma che come dire è segnata da questa specializzazione con dimensioni di impresa tendenzialmente schiacciate sulla piccola e medio piccola dimensione, con una concentrazione territoriale estremamente accentuata in termini di approvvigionamento di materie prime, con mercati finanziari che non sono integrati e che quindi determinano una fortissima dipendenza dal settore bancario, con una politica salariale tradizionale che non viene utilizzata per stimolare le innovazioni tecniche e quindi gli incrementi di produttività. Allora io credo che un modello di questo genere non abbia nessuna possibilità di recuperare i ritardi in termini di digitale e di intelligenza artificiale, ma se è giusta la mia diagnosi, se noi persistiamo con questo modello non saremo in grado di mantenere il nostro vantaggio comparato in termini di basso impatto ambientale e in termini di riproduzione, di inclusione sociale, cioè della difesa del modello sociale europeo. IRA, da questo punto di vista, l'Inflation Reduction Act statunitense, con tutti i limiti che comporta in termini di squilibri macroeconomici, è comunque una sfida all'Europa sulla nostro vantaggio comparato in termini ambientali. E guardate, forse vi può scandalizzare, ma in termini di riduzione percentuale, i progressi cinesi in termini di basso impatto ambientale, di riduzione dell'impatto ambientale sono significativi. Quindi, come dire, io non credo che se noi non ci poniamo il problema di ridisegnare un modello produttivo dell'Unione Europea sia possibile colmare questi divari tecnologici e quindi riprodurre il benessere europeo. Allora, a questo punto, e qui mi avvio, come dire, perché vedo che il mio tempo sta finendo, a concludere i miei ragionamenti, le mie, come dire, suggestioni, perché non si tratta di altro, bisogna chiederci ma com'è possibile modificare con tutta la gradualità del caso senza buttare via il bambino con l'acqua sporca, quindi non rinunciando ai nostri punti di forza nella manifattura e anche in robuste tecnologie mature prima di non essere riusciti a fare un salto tecnologico ulteriore. Io credo che qui, come dire, la parola chiave sia una politica industriale europea che certamente non si può configurare in termini di allentamento degli aiuti di Stato nazionali, perché una politica industriale europea ha come primo obiettivo la riduzione delle divergenze nell'ambito dell'Unione Europea, mentre l'allentamento degli aiuti nazionali di Stato non fa che aumentare le divergenze nell'ambito dell'Unione Europea e come articolazione di questa politica industriale che certamente non va intesa come una politica industriale rivolta all'indietro, quindi come una politica settoriale o come una politica accentrata, ma come una politica che, come dire, raccolga i segnali di mercato che provengono da imprese auspicabilmente sempre più europee, che si incentri sul rafforzamento del bilancio centrale europeo e che soprattutto sia in grado di produrre beni pubblici europei. A questo punto, se non avessi già esaurito il mio tempo, dovrei aprire una parentesi per cercare di chiarire questo termine così generico e così impreciso di beni pubblici europei, certamente non può essere inteso strettamente nei termini di storia dell'analisi economica, cioè semplicemente come beni che non hanno rivalità e non escludibilità, perché quando si parla di beni pubblici globali e di beni pubblici europei si dà una definizione molto più generica, ma se, come dire, vi accontentate della suggestione, non voglio entrare nel merito perché sarei soprattutto interessato ad avere reazioni naturalmente, credo che basti questa suggestione e, come dire, posso cercare di arrivare alla conclusione del mio ragionamento. Per produrre beni pubblici europei, per essere un pochino più preciso, meno generico, per selezionare tra i tanti beni pubblici europei che possiamo concepire, per esempio dalla centralizzazione nell'approvvigionamento dei vaccini, alla tendenziale unificazione in termini di difesa e di sicurezza, dalla aggregazione delle reti nei servizi, per esempio di telecomunicazione, a accentramenti in attività di ricerca e sviluppo su comparti di attività particolarmente cruciali come input dei processi innovativi. Bene, se noi, come dire, facciamo riferimento a questa area così estesa e generica, un primo problema è quello di selezionare il sottinsieme di beni pubblici che siano in grado, anche nel breve e medio periodo, di avere un impatto più dal lato dell'offerta aggregata che della domanda aggregata, perché altrimenti il ragionamento crolla, perché tutto il ragionamento è fondato sul fatto che noi siamo in una fase in cui, almeno nell'Unione Europea, le strozzature provengono soprattutto dal lato dell'offerta e non soltanto in termini di tasso di inflazione, ma anche in termini di recupero, di produttività e di riduzione di varie tecnologiche, quindi di lì dobbiamo partire e agire. Quindi un primo problema è quello di selezionare questo sottinsieme di beni pubblici europei e poi trovare dei veicoli, oltre che risorse finanziarie, per poter, come dire, produrre effettivamente questi beni pubblici. Quindi si tratta di un processo molto ambizioso. Io non credo che l'Unione Europea, per quanto possiamo essere critici, parta da zero a questo riguardo. Recovery and Resilience Facility, da questo punto di vista, non è in grado di produrre davvero beni pubblici europei, perché una caratteristica dei beni pubblici europei è non soltanto di avere un finanziamento accentrato, ma anche di avere una produzione accentrata. Laddove Recovery and Resilience Facility passa per l'attuazione di piani nazionali di riprese e resilienza e quindi ha un accentramento di finanziamento, ma una produzione a livello nazionale. e, come dire, le considerazioni che io condividevo molto relative ai limiti del ridisegno del PNRR nazionale dimostrano quanto sia difficile attuare produzioni a livello nazionale, ancorché con finanziamento a fondo perduto o a tasso di interesse agevolato proveniente dall'Europa. In ogni caso, Recovery and Resilience Facility possono certamente costituire un buon punto di partenza, perché possono gettare le prime basi per una transizione verde e digitale. Repower EU è un piccolo passo avanti, cioè l'iniziativa europea che si collega in parte al Recovery and Resilience Facility in termini di transizione energetica fa un piccolo passo avanti in termini di possibilità di produzioni accentrate. C'è stato un piccolo passo avanti anche in una discussione che è stata un po' sotto traccia, cioè la discussione del bilancio settennale europeo arrivati a metà periodo. Noi europeisti ci illudevamo forse che emergessero prese di posizione più impegnative, vi erano state delle anticipazioni incoraggianti da questo punto di vista. Il programma che è stato varato e che ha come acronitmo step è modesto, vi è un sigillo di sovranità che incentiva attività accentrate a livello europeo, sono primi passi avanti ancora fragili ma non disprezzabili. Vi è poi un programma nettamente sottovalutato, quello dei progetti europei particolarmente innovativi, l'IPCI che per adesso è poco finanziato a livello centralizzato, si finanzia solo la fase neanche di start-up ma di pre-start-up se è particolarmente innovativa e poi si chiede a risorse nazionali di contribuire alla produzione. Il passaggio essenziale sarebbe di disporre di risorse europee sia per progettare che per produrre queste attività estremamente innovative. Naturalmente un progetto di questo genere apre una questione che io per incompetenza e per limiti di tempo, in questo caso i limiti di tempo sono una benedizione, non affronto che quello della ridefinizione delle risorse proprie, che è un tema ineludibile in quest'ottica, la conclusione che posso trarre, che è una conclusione estremamente provvisoria e debole, è che certamente una condizione necessaria per poter soltanto disegnare un processo di nuova politica industriale europea incentrata su produzioni di quel sottoinsieme di beni pubblici che agisce dal lato dell'offerta deve essere inserita in un progresso nella governance economica europea. Il 2024 che ahimè è un anno elettorale, questo non facilita il compito, è un anno elettorale non soltanto per elezioni del Parlamento europeo ma anche per elezioni nazionali in paesi importanti che forse un po' sottovalutiamo, ma la cui importanza è stata accresciuta dall'aggressione russa dell'Ucraina. È un anno molto ricco dal punto di vista delle sfide in termini di governance, quella più importante riguarda le nuove regole fiscali. Io credo che il primo passaggio essenziale per aprire almeno una discussione sulla politica industriale europea sia quello di approvare le nuove regole fiscali grossomodo nella formulazione proposta dalla Commissione europea con la normativa di aprile 2023. Grazie.